All'origine del crollo del ponte Morandi di Genova ci sarebbero difetti esecutivi rispetto al progetto e mancanza di interventi di manutenzione significativi che avrebbero causato il degrado e la corrosione di diverse parti della struttura fino al suo collasso. Questo è quanto contenuto nella relazione presentata in tribunale dai tre periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Angela Nutini. La perizia si è svolta attraverso l'analisi dei reperti crollati delle parti di ponte rimaste in piedi e anche di carotaggi. Particolare attenzione è stata posta all'ancoraggio dei tiranti sul lato sud che secondo la procura sarebbe il punto dove tutto è cominciato. I periti in questo caso in riferimento ai tiranti hanno evidenziato uno stato corrosivo di tipo generalizzato di lungo periodo dovuto alla presenza di umidità, di acqua e contemporanea presenza di elementi aggressivi come solfuri e cloruri. L'inchiesta venne indagate 71 persone insieme a società autostrade e spea per i reati a vario titolo di omicidio colposo, omicidio stradale colposo, disastro colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti e falso. Secondo i periti tiranti i cosiddetti stralli a causa della corrosione presentavano una diminuzione della sezione di singoli trefoli fra il 50 e il 100%. Secondo l'aspi la classificazione effettuata nella perizia però realizzata in modo sommario e consentirebbe comunque di escludere che sia stato il cedimento di uno strallo a causare il crollo del viadotto sul Polcevera. Le perizie di parte effettuate da Università di Pisa e in Pa di Zurigo evidenzierebbero infatti che l'eventuale presenza di una percentuale ridottissima di trefoli corrosi fino al 100% non può in alcun modo aver avuto effetti sulla tenuta complessiva del ponte. Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo e Forza Italia che esce da se stessa. Buona fortuna a tutti. Poche parole bianchiare con cui Giovanni Totti ha confermato la sua fuoriuscita da Forza Italia peraltro già annunciata. Totti in un post su Facebook ha evidenziato come a suo dire non ci sia la volontà di cambiare alcunché. Intanto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato un nuovo coordinamento nazionale, ovviamente senza Totti, costituito dalla senatrice Anna Maria Bernini, dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, dai parlamentari Maria Stella Germini e Sestino Giacomoni e dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. La situazione è precipitata nella serata di ieri dopo la riunione del cosiddetto tavolo delle regole, riunitosi per stilare il nuovo statuto di Forza Italia. Giovanni Totti pretendeva che dal tavolo emergesse chiara la necessità di elezioni primarie per la scelta del leader e un coinvolgimento diretto della base per la scelta degli organi di vertice nazionali e locali. Ma così non è stato e la sua uscita dalla compagine berlusconiana, già ampiamente annunciata nelle ultime ore, è stata quindi confermata. In corrispondenza dell'esodo estivo, al fine di consentire ai clienti di programmare al meglio il loro viaggio, l'autostrada di Fiori ha emesso alcune previsioni di traffico per il fine settimana sulla tratta Savona con fine di Stato. In particolare sabato 3 agosto in direzione Francia è previsto traffico intenso su tutta la tratta con rallentamenti o code nella tratta Savona fino alle Ligure nella fascia oraria compresa fra le 9 e le 13 e ancora a code in uscita la barriera di confine dalle 10.30 alle 20.30. In direzione Genova traffico intenso con possibili code fra Finale Ligure e Savona, in mattinata possibile code in entrata la barriera di confine. Domenica 4 agosto la previsione indica in direzione Francia traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata fra Savona e Spotorno, code in uscita la barriera di confine dalle 12 alle 16 e in direzione Genova traffico intenso su tutta la tratta. In mattinata possibili code in entrata la barriera di confine e possibili rallentamenti o code fra Pietraligure e Savona fra le 15 e le 24. Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi e anche di modesta entità in condizioni di traffico intenso. L'invito è quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali informativi disponibili. È stabile il bilancio delle imprese artigiane nel secondo trimestre dell'anno, lo dicono i dati elaborati da Confartigianato, che evidenziano una situazione migliore nelle province di Imperia e La Spezia e un calo invece a Genova. Dopo un finale di 2018 piuttosto negativo, meno 1%. Secondo gli ultimi dati Infocamere, movimprese su un totale di 43.194 microimprese artigiane ligure attive, nel secondo trimestre si contano 905 aperture e 974 chiusure per un saldo finale leggermente negativo dello 0,16%. In Liguria, manufatturiero e costruzioni, i due principali settori di attività artigiana, segnano rispettivamente un lieve calo dello 0,02% e dello 0,3%, numeri che secondo Confartigianato complessivamente indicano un rallentamento nell'emorragia di imprese, soprattutto nel settore manufatturiero e che, a livello provinciale, mettono in evidenza il maggior calo delle imprese genovesi. Entrando nel dettaglio provinciale, in effetti la situazione risulta diversificata. A Genova, tra aprile e giugno, la filiera artigiana conta 22.149 microimprese, 479 nuove aperture e 638 chiusure, con un calo netto dello 0,7%. Si mantiene quasi invariato il numero delle microimprese artigiane a Savona, mentre migliora la situazione alla Spezia, che segna un 0,76% complessivo in più, e a Imperia, dove l'artigianato provinciale cresce di 55 unità nel trimestre, con un trend in progresso dello 0,8% su un totale di 7.086 microimprese attive. Oggi ci troviamo sul vecchio tracciato ferroviario, perché come vedete sono iniziati i lavori del primo tratto della nuova pista ciclabile, che collega il sottopassaggio della nuova stazione ferroviaria alla nuova pista ciclabile che verrà realizzata successivamente in un secondo tempo. Questo tratto di pista ciclabile è molto importante perché consentirà a tutte le persone che scendono dal treno, anche con la bicicletta, di poter raggiungere il nostro territorio, quindi Andorra, il mare, il nostro bellissimo introterra, i nostri sentieri, e poi successivamente anche collegare questo pezzo di pista ciclabile con la nuova pista ciclabile che andrà verso Imperia. È anche importante farvi vedere cosa sta succedendo qui. Come vedete c'è tutto il nuovo tratto che è stato pulito, dove andremo a collegare una nuova viabilità che partirà dal comune e arriverà fino al sottopassaggio, con nuovi servizi per ai cittadini, quindi le fermate di pullman, le fermate di taxi, un nuovo parcheggio e una nuova rotonda che sarà più fruibile agli andoresi e ai turisti. Io sono venuto volentieri a salutare a mio avviso questa brillante iniziativa di questi ragazzi, come diceva prima Ugo Mela all'inizio, quindi i partecipanti quest'anno saranno poco, però a mio avviso è un'iniziativa bellissima dove praticamente questi ragazzi portano i valori della resistenza sui luoghi dove c'è stata la resistenza, la vera resistenza, quindi io ho voluto essere presente proprio alla partenza di questa prima pedalata resistente per dare il mio benvenuto a questi ragazzi e li aspetterò domenica d'alto in occasione della commemorazione di Felice Cascione. Sante Eusebio da Vercelli. Nato in Sardegna tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, si trasferì a Roma dove riceve il battesimo da Papa Eusebio. Ebbe come compagno Liberio, il futuro Papa, con il quale condivise il desiderio di vivere il Vangelo. Eusebio e Liberio furono ordinati lettori per la loro conoscenza della fede, per la vita esemplare e per la voce armoniosa. Conquistò i vercellesi con la sua arte oratoria, Vercelli si circondò di Chierici ed elaborò quello che oggi si chiama il piano pastorale. Mandato in esilio da Costanzo, l'imperatore Ariano, ebbe in sorte di tornare nella sua Vercelli dove morì nel 371. È patrono del Piemonte e della città di Vercelli. È invocato contro la possessione diabolica. L'attività delle imprese manufatturiere dell'Eurozona è in calo per il sesto mese consecutivo, con la Germania che segna la peggiore caduta in sette anni, una crescita più lenta in Francia e Spagna e l'Italia in fase stagnante. L'indice PMI manufatturiero dell'Eurozona è sceso da 47,6 a 46,5 sotto la soglia di 50 che divide l'espansione dalla contrazione, questo dato registrato in luglio. L'Italia segna un lieve rialzo a 48,5 da 48,4 facendo meglio delle stime che davano 48 ma mantenendosi in contrazione. Il Sib, Sindacato Italiano Balnearia, ha presentato un bilancio sconfortante. Dopo un maggio negativo, anche a giugno e luglio, le presenze in spiaggia hanno fatto registrare pesanti flessioni rispetto allo scorso anno, arrivando almeno 25%. Il presidente del Sib, Antonio Capacchione, ha spiegato che questa forte diminuzione di presenze è dovuta, oltre alla situazione economica delle famiglie, al maltempo che ha colpito molte località durante i primi mesi estivi. Così aggressivo che diversi stabilimenti hanno subito danni a strutture ed attrezzature. Le spiagge continuano ad essere molto frequentate nei weekend, mentre durante i giorni feriali la maggior parte degli ombrelloni resta chiuso. Apple si prepara a lanciare sul mercato tre modelli di iPhone in grado di sfruttare la tecnologia 5G. Le indiscrezioni risalgono a qualche tempo fa ed erano state rilanciate da Mac Rumors. Ora, a confermarle, ci pensa anche l'analista Ming C. Quo, specializzato nell'azienda di Cupertino, che spiega come l'acquisizione della maggioranza nella divisione di chip modem per smartphone di Intel di qualche giorno fa possa significare soltanto una cosa. Il colosso californiano disporrà di più risorse da investire nel mercato emergente in cui aziende competitor come Huawei e Samsung hanno già fatto passi da gigante. Oltre alla connettività 5G la nuova linea di smartphone, che debutterà nel 2020, potrà contare su display OLED e del sensore 3D TOF in grado di fornire una mappa 3D dettagliata dell'ambiente circostante. Ridurre la crescita di alcuni tumori rendendo al tempo stesso più efficace certi trattamenti chemioterapici e di radioterapia è possibile. Almeno secondo uno studio dei ricercatori della Duke University School of Medicine di Durham, al centro della questione c'è la metionina, un amminoacido essenziale presente in alcuni cibi, come ad esempio nel petto di pollo, nei semi di sesamo e nel grana. Non lo produciamo, ma lo assumiamo attraverso ciò che ingeriamo. È coinvolto nei processi tumorali e nonostante questo sia un campo ancora abbastanza oscuro per la scienza. I ricercatori hanno pensato che riducendo l'apporto di metionina nella dieta si potesse frenare la crescita del tumore e così è stato. In diverse tipologie di tumore in topi gli esperti sono riusciti a ridurre la crescita tumorale, riducendo dell'83% l'amminoacido nella loro dieta. Infine i ricercatori hanno dato per tre settimane la stessa dieta povera di metionina a sei individui sani e visto che questa alimentazione induce nell'uomo le stesse reazioni metaboliche viste nei topolini, le ipotesi vengono confermate. La trattativa del Cagliari per Rajan Nainggolan sembra quasi definitivamente conclusa. Il Ninja non si è allenato alla pinettina con i compagni ed il suo agente Alessandro Beltrami starebbe definendo gli ultimi dettagli con il presidente Giulini e l'Inter. L'affare dovrebbe chiudersi a breve e Nainggolan potrebbe raggiungere immediatamente Cagliari per le visite mediche. Il futuro del centrocampista sembra quindi collegato al club rosso-blu, almeno per la stagione 2019-2020. In seguito il giocatore tornerà all'Inter, squadra con cui è contrattualmente legato fino al 2022. Paolo Di Bala, nome messo sul mercato dalla Juventus, potrebbe vedersi arrivare una sanzione a sette cifre. Ciò che forse gli porterà a problemi sono i suoi diritti d'immagine. Tutto inizia nel 2016, quando Paolo Di Bala cedì i propri diritti d'immagine alla società amaltese Starry Mage tramite un contratto decennale. Nell'agosto del 2017 però il calciatore rescinde il contratto, cosa ritenuta inaccettabile dalla società. Ora la Starry Mage ha deciso di richiedere un risarcimento. Si parla di una cifra vicina ai 40 milioni. La somma potrebbe influenzare anche il futuro del giocatore. I diritti d'immagine infatti hanno solitamente un ruolo chiave nei contratti con i grandi club. Le polemiche intorno alla non presenza di Cristiano Ronaldo nella gara amichevole contro il team Korean League continuano e non sembrano intenzionate a fermarsi. Da contratto avrebbe dovuto giocare almeno 45 minuti. Peccato però che il portoghese quella partita l'abbia vista interamente dalla panchina. Sarry lo ha risparmiato per un affaticamento muscolare, come si è affrettato a spiegare alla stampa poco dopo il 3-3 finale, ma gli organizzatori dell'evento non l'hanno presa benissimo. I tifosi presenti allo stadio hanno cominciato a chiedere il rimborso del biglietto perché delusi dalla mancata partecipazione del loro beniamino e adesso, secondo quanto raccolto da AS e dal mondo deportivo, sarebbe entrata in gioco addirittura la polizia coreana che starebbe vagliando una denuncia per frode presentata da un avvocato di LKB e partners nei confronti dell'agenzia dell'evento, De Fasta, di CR7 e della Juventus. Il Betis a Siviglia sogna in è grande. Dopo aver acquistato il campione del mondo, Nabil Fekir, il club andaluso ha puntato Arek Milik del Napoli. Secondo quanto riportato dall'estadio deportivo, Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, lo valuta 60 milioni di euro e non ha intenzione di scendere al di sotto di questa richiesta. Ma il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 è congelato per le elevate richieste del giocatore e la volontà di poter far cassa vendendolo esiste. E come? Il Napoli insiste sempre per poter portare ad Ancellotti Ames Rodriguez e continua a monitorare la situazione di Cardi e tra l'altro non molla neanche la pista Lausano.